Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e sale la febbre da Champions League ci vedrai impegnati contro l'Aintracht Napoli facciamo il pre partita di questa sfida Champions perché ho visto le ultime uscite dell'Aintracht compresa l'ultima partita contro il Werder Bremer che mi ha fatto prendere questi appunti questi spunti quindi è doveroso parlare e analizzare più o meno nemmeno analizzare ma cercare di capire che partita possa essere chi sono i loro calciatori pericolosi e come si mettono in campo a prescindere dalla formazione del Napoli perché comunque Spalletti si presenterà con l'undici tipo molto probabilmente senza sapere ancora le formazioni ufficiali però credo che l'undici del Napoli sia ben chiaro la solita difesa con Mario Rui credo che giochi perché Olivera è stato impegnato tutta la partita contro il Sassuolo quindi credo giocherà Mario Rui, Kim, Rachmani, Di Lorenzo Anguissà, Zienischi, Lobotka è solo davanti bisogna vedere se è Politano o Lozano andiamo per gradi perché proprio da questo punto di vista su Politano o Lozano secondo me è una scelta da prendere con le pinze vi spiego anche il perché prima di cominciare ragazzi come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se non l'avete ancora fatto non l'avete ancora fatto mettete un like al video così l'algoritmo si diverte e andiamo a vedere L'Eintracht come gioca allora io ho visto, parliamo soprattutto dell'ultima partita perché giocano sempre alla stessa maniera sono una squadra, sono i campioni d'Europa League in carica ovviamente è un altro anno, sono passati dei mesi l'Europa League è stata vinta a maggio scorso non ci possiamo rifare alle partite che hanno giocato l'anno scorso ma vediamo nelle ultime uscite come sono andati allora L'Eintracht ha giocato con il Werder Bremen sabato sera quindi già da questo punto di vista abbiamo 24 ore di riposo più di loro non so perché ci sia questa differenza tra il campionato italiano e il campionato tedesco perché comunque 24 ore di riposo in più non sono poche a questi livelli comunque detto questo non sta a me fare le leggi quando giochi e quando non giochi la Bundesliga fa le sue, la Serie A ci ha fatto giocare di venerdì come è giusto che sia allora L'Eintracht ha giocato contro il Werder Bremen con un 3-4-2-1 che a livello difensivo diventa o un 4-4-2 o un 5-3-2 si chiudono tutti quanti dietro in fase di non possesso perché hanno i due centrali che poi diventano quasi due terzini di spinta in fase di impostazione e in fase di attacco che possono rompere le scatole quando li devi marcare sono Evan Dicca che soprattutto sulla fascia sinistra con Philipp Max creano molti pericoli comunque la partita contro il Werder hanno vinto 2-0 è vero però c'è stata un'autorete dell'1-0 poi ovviamente hanno fatto il 2-0 a inizio secondo tempo al 52esimo il Werder è una squadra che non mi è piaciuta secondo me decima in Bundesliga però noi abbiamo giocato col Sassuolo che è di gran lunga superiore al Werder Bremen quindi già questo già non voglio dire che il nostro 2-0 è superiore a livello di valori a questo 2-0 però il Werder Bremen è una squadra che non si capisce io non riesco a guardare una partita del Werder l'ho vista quella con l'Aintracht perché mi interessava vedere quando cambiavi chi facevi riposare come ti metti in campo se hai fatto turnover non ha fatto turnover ha fatto giocare i titolari e poi hanno cambiato al settantesimo comunque giocano con un tridente che non è male Lindstrom, Moani e Gozze sulla sinistra Gozze supportato appunto da Philipp Max che a quanto ho visto ieri e nelle ultime uscite è il pericolo principale su quella fascia su quella fascia noi avremo il nostro Di Lorenzo che problemi non ce ne dà e dà sicurezza al Napoli quindi è proprio là che volevo arrivare come ho detto prima il punto lo sanopolitano è da gestire bene perché l'Aintracht attacca prettamente a sinistra quasi sempre poi gioca in fase di possesso e di attacco in fase attiva diciamo gioco contro i difensori si ritrovano però a far salire i due centrali laterali e hanno due incontristi che rimangono un po' più dietro così come fa il nostro Lobotka però loro ne hanno due perché giocano quasi sempre a quattro al centrocampo quindi la fase di svolta io la vedo tra quei quattro di centrocampo e i tre nostri è quel pallino che abbiamo sulla fascia destra perché secondo me ci servirebbe un po' di copertura in più ovviamente scegliere tra losano e politano è difficile perché losano ha fatto due chiusure impressionanti una con la cremonese una l'ha fatta domenica scusate venerdì contro il sassuolo quindi in fase di copertura ti rendono tutto e due però considerando che l'Aintracht avendo visto come si pone in fase di non possesso lascia tantissimi spazi diciamo tra i primi 20 metri dopo il centrocampo ad arrivare all'area di vigore ci sono abbastanza spazi per poter farli male quindi mi giocherei la carta losano per un per un fattore di rapidità e poi con una difesa a tre vedo molto bene Osimène che o a tre o a quattro comunque fa il reparto da solo non vedo una partita chiusa non vedo una partita dove l'Aintracht viene per chiudersi e cercare di portare un risultato a casa perché è una partita che per tutte e due le squadre è fondamentale per mettere un piede ai quarti di finale quindi non credo che l'Aintracht si giochi alla partita a livello difensivo se si aprono ne vedremo delle belle e li faremo molto male e se invece si chiudono a livello difensivo abbiamo già giocato con la Roma abbiamo giocato con la Cremonese che si è chiusa abbiamo giocato diverse partite quest'anno con squadre che comunque avevano tutte e dieci uomini dietro la linea del pallone e comunque abbiamo portato il risultato a casa non sarà un risultato largo perché ovviamente vai a sbattere contro un muro però la partita si può tranquillamente vincere e portare a casa dal punto di vista tattico ripeto loro attaccano prettamente a sinistra con questo Philip Max che è il giocatore più rapido ed hanno anche rapidità tra i due centrali di centrocampo quindi dobbiamo stare molto attenti nelle ripartenze come lo siamo sempre stati però se vogliamo comparare la Eintracht ha una squadra di serie A manco a farla apposta mi sembra il sassuolo in fase di ripartenza però sono molto più lenti e tecnicamente sono un tantino più scarsi del sassuolo quindi questa cosa fa ben sperare e poi una cosa che ho visto soprattutto nella partita di sabato Eintracht Roma sono organizzatissimi nelle palle inattive in attacco si sono resi pericolosi soprattutto nella partita che hanno fatto con delle punizioni diciamo passate il centrocampo punizioni defilate a destra a sinistra parliamo di punizioni laterali a 20-25 metri fuori dall'area di rigore dove loro sono organizzatissimi con i colpitori di testa fisicamente è una squadra che ci sta quindi ne vedremo delle belle credo sui duelle aerei però sono meno organizzati sulle stesse palle ma quando le subiscono cioè se noi abbiamo palle inattive oltre il centrocampo e vogliamo mettere dei cross al centro direttamente dal calcio di punizione secondo me lo possiamo rischiare e lo dobbiamo rischiare perché vanno in difficoltà sono disordinati detto questo io spero almeno di vedere una grandissima partita perché di vedere partite con squadre chiuse dove il Napoli comincia a girare di qua comincia a girare di là e poi lo trova allo spiraglio il gollo lo fa perché riesce quasi sempre però preferisco vedere una partita aperta è una grande sfida Champions ragazzi io mi sono mi sono sorbito perché è stata l'ultima partita dell'Aintracht con il Werder è stata veramente tra virgoletto una palla seguirla perché a livello di ritmo partita comunque sembrava la partita della notte di Natale sembrava un amichevole estiva a livello di intensità quindi sono molto fiducioso per questo ottavo di finale e noi abbiamo l'obbligo di mettere un piede agli ottavi soprattutto con la partita di andata perché vuoi rischiarti la qualificazione con il ritorno a Napoli non mi sembra il caso detto questo questo era per quanto riguarda Aintracht Napoli pre partita di Champions ragazzi state sintonizzati iscrivetevi al canale e sempre forza Napoli ciao 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 Grazie.